Ciao a tutti, ciao, bentornati sul mio canale. Sono un po' così perché passa la gente, un po' mi ricogna. Allora, primo giorno di ferie perché praticamente io ero in ferie da venerdì ma era il mio fine settimana, non l'avevo calcolato e quindi sono partita in ferie dal lunedì. Sono arrivata ieri, pomeriggio, non ieri mattina ma sono andata a fare la spesa, a fare tutto così. Dopo sono in ferie veramente. Prima serata di ferie e praticamente ieri e ieri è venuto giù il mondo, pioggia tutta la notte stamattina, quindi oggi è stata una giornata un po' mista e ho deciso di riposarmi per ricaricare le batterie. Quindi oggi ho preso giornata di relax, dove ho messo a posto la rolotte, dove ho messo a posto i vestiti perché prima sono sola, da venerdì arriva mio figlio, quindi relax totale. Ora mi devo anche le cuffie ma non so se dopo si sente il video. Vediamo se si sente dopo, se dopo non si sente. E' nulla, oggi ho fatto appunto tutti questi lavorini, sono andata a camminare, ho fatto poi la doccia. Il mare non mi sono neanche affasciata perché volevo, ho letto, ho guardato video, ho fatto cose che di solito faccio, seguo tutti voi, ma l'ho fuori a serie, invece qui oggi sono stato a tornare a rilassarmi e ho fatto queste osse. Giornata che era rinfrescata tantissimo, tanto è che oggi non ci crederete, ma il profumo che sto usando oggi è questo profumo di Magic Miss Matte, che è un profumo che è dolcissimo, super intenso, super opulente, è un profumo invernalone, che a me piace moltissimo, perché ha quella nota di vaniglia, di miele, di mandorla, è appunto un profumo che imita un profumo di chili e molto costoso e oggi a me mi andava ad indossare questo, perché era freschino, era la giornata di cocco, era la giornata di relax e profumo bellissimo, che adoro e che appunto quando vi dico che io quando mi va un profumo, uso un profumo, non mi interessa che stagione se mi vada ad indossare quello, indosso quello. Allora, un video un pochino così chiacchieruccio, perché, per raccontarvi appunto che avevo fatto questa giornata, per raccontarvi che sono già in ferie e nulla, spero di passarla bene due settimane, questa da sola e da venerdì come i miei, quindi sicuramente è bene, per ripostarmi, perché ho avuto l'asciatico, ho avuto tutti i problemi e spero in questi giorni anche di poter far video, perché c'è più tempo e quindi vi farò vedere i profumi che uso al giorno e così. Comunque niente, volevo solo fare questo, volevo ringraziare tutti voi, nuovi iscritti, vecchi iscritti e vi aspetto, vi aspetto anche se sono in ferie e che vi aspetto e spero che guardate i miei video piccoli, con piccolo contenuto, perché in ferie non è che uno si porta e il mondo per fare video, però qualcosina mi sono portata, quindi io vi saluto, vi mando un grandissimo bacio e al prossimo video, ciao!